ma buongiorno fratelli e sorelle rossonere bentrovati e buon sabato a tutti come vedete oggi non c'è la solita macchina perché come vi ho sempre detto sabato e domenica appena riesco video diverso nemmeno in casa all'aria aperta che è ancora più bello ragazzi anche perché le giornate ancora tutto sommato ce lo permettono ce lo permettono di fare manca un giorno al mondiale ragazzi manca un giorno al mondiale onestamente non mi va di parlare di mondiale non parlerò molto di mondiale forse magari lo farà gabriele perché a me è un tasto dolente però più si avvicina questo mondiale scusate che mi sposto che c'è il sole più si avvicina questo mondiale e più mi rendo conto che non ci siamo vedete grazie alla cippola però quando una cosa sta si sta per avverare come sta succedendo col mondiale realizzi sempre di più che alla fine non siamo veramente al mondiale vedi squadre al mondiale che onestamente a livello di organico parlo meriterebbero di non essere lì ci dovrebbe essere l'italia e invece non ci siamo è pazzesco se manca un giorno e sto realizzando che non ci siamo e non guarderò il mondiale più che altro per invidia ve lo dico sinceramente perché volevo esserci volevo la mia italia che fosse lì a rappresentare un paese che ha vinto un europeo col cuore col cuore più con la capacità infatti mi ricorda un po il nostro Milan e meritatamente comunque perché comunque ha fatto le sue partite all'europeo però non è arrivato al mondiale è tutto questo è ancora tanto folle poi mancini che fa le sue dichiarazioni dice però meritavamo di essere in catar no mancini tu non meritavi di essere in catar per quello che non hai fatto semplicemente merita di essere in catar chi ha fatto quello che doveva fare tu non l'hai fatto mancini chiudiamo però questa polemica e apriamone un'altra ok perché parla l'avvocato pimenta l'avvocato pimenta è il procuratore insomma quello che si occupa degli affari di donna ruma è vero si torniamo un attimo si donna ruma ma solo per farvi sorridere un po per farvi capire quanto non ci sia onestà secondo me nel mondo del calcio poca trasparenza l'avvocato pimenta è stato premiato comunque ai world lì dove è stato al global world dove sono stati voti premiati anche maldini e massara che approfitto per complimentarmi e dice che conferma che il suo assistito non è andato via per soldi assolutamente no dei soldi non interessava niente era per provare comunque un level per fare un level up per alzarsi di livello già questo può essere abbastanza offensivo però comunque che il psg nel momento in cui si è andato stesse meglio del milan questo è vero è assolutamente non si può negare però comunque è nato e cresciuto nel milan ma io non metto in discussione non so voi il fatto che se ne sia andato perché è giusto che uno possa provare nuove esperienze ha tutto il diritto di farlo perché no io metto in discussione i modi ok perché milan ti ha arricchito milan ti ha fatto ricco il milan ti ha messo in vetrina e ci sono modi e modi caro donna ruma il fatto che tu continui a insistere te il tuo avvocato che non si è andato per soldi poco mi importa poco mi importa perché lui non si è andato per prendere i soldi ma i soldi li ha fatti perdere al milan e anche tanti signori anche tanti soldi quindi rispetto quello che dice il suo avvocato e lui però non condivido perché poteva andarsene dove voleva a giocare anche in sudamerica non è un problema però lascia lascia fai in modo che il milan possa trarre qualche vantaggio da quello che ti ha dato a te per tanti anni chiuso questo discorso lanciamo una piccola bomba che sta circolando in questi in questi giorni che è abbastanza interessante a me se fosse vera ragazzi mi farebbe tanto tanto piacere si parla di maldini massara che hanno già individuato il post layout come vedete si parla molto spesso un po ovunque del post layout quasi come se la maggior parte delle persone fossero rassegnate a questa evidenza sempre più persone parlano di post layout perché perché comunque le aus procuratore hanno tradito le aspettative di maldini maldini si aspettava che rinnovasse comunque il suo contratto prima del mondiale questo non è successo credo che sia anche una una forma di trattativa fatta apposta al fatto di non rinnovare prima il mondiale per lasciarsi più porte aperte per avere più possibilità subito dopo il mondiale spero per lui che si metta in vetrina da una parte da una parte spero che non si metta in vetrina così a meno a meno a meno fans che o meno squadre che lo vogliono portare da con loro ma a proposito di questo contesto la cosa curiosa è che maldini massara giustamente si stanno già premonendo chiaro che comunque individuano già dei profili interessanti e il profilo più interessante che potrebbe essere veramente quanto se non meglio di leao non so voi quanto lo conosciamo conosciate io lo conosco bene è joao felix ragazzi il milan pare che si è interessando veramente seriamente ha già fatto dei colloqui le interlocuzioni con il suo con i suoi agenti joao felix vuole andare via dall'atletico madrid vuole provare nuove esperienze perché non si trova bene già da diverso tempo è un giocatore di 23 anni esattamente l'età di leao ha un valore indicativamente intorno ai 50 60 milioni che voi dite scappa la cippola e sono tanti soldi però chiaro che con si a gennaio porti via vendi via leao un bel po di cash ce l'hai ragazzi un bel po di cash se non trovi l'accordo con leao e decidi di metterlo sul sul mercato per i motivi che ho detto ieri che non avrebbe senso aspettare giugno chiaro che un investimento come joao felix secondo me aiuterebbe anche i tifosi a dimenticare perché è un prospetto veramente pazzesco andate a vedervi se non avete mai fatto qualche qualche skill qualche trick di joao felix qualche partita perché è un giocatore fenomenale soltanto che l'atletico non ha più voglia di stare quanto a quanto si dice il valore è quello indicativamente 50 60 milioni pensate che ha toccato l'apice tre o quattro anni fa due o tre anni fa era intorno ai 100 milioni e lo stesso atletico l'aveva pagato 127 5 milioni di euro l'aveva pagato all'epoca quindi era un investimento pazzesco di un crack di una di un futuro crack che non è tanto non è tanto riuscito però le potenzialità le ha eccome sarei molto felice di questa trattativa si diventasse effettivamente concreta e vorrei sapere anche da voi cosa ne pensate intanto vi auguro buona mattinata buon sabato mattina ci sentiamo come sempre più tardi sempre forza mila e adieu ciao ciao